Cercate un deck che non sia troppo impegnativo a livello economico da costruire? State valutando l'idea di testare un leader bicolore, ma non sapete da dove iniziare? Quale deck potrà fare al caso vostro rispondendo perfettamente ad entrambe le esigenze? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Il rosso ha subito un duro colpo dopo la Banned List promossa dalla Bandai, che ha mandato in letargo alcune carte fondamentali per questa tonalità e con esse anche interi deck. Infatti Barba, Zoro e Trafalgar hanno letteralmente visto crollare la loro struttura che fino a pochi giorni fa sembrava essere forte e salda. Parlando proprio dei bicromatici, non c'è solo Lua a condividere con il suo verde la tonalità cremisi, ma anche Garp assieme al nero, Luffy di OP-01 che come Traf ha il verde e Vivi che accompagna il tutto con un bel blu. E sarà proprio la regina di Alabasta, la protagonista della profile di oggi, che come per Rebecca condivide un tratto molto importante, anzi due, li vedremo fra poco, portando all'attenzione di diversi aspiranti re dei pirati la caratteristica principale di questo leader. Prima di continuare, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, così crescendo potrà portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram, dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite, molto altro ancora, e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Vivi Rosso-Blu, andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo come sempre dal leader, che con i suoi 5.000 punti forza e 5 vite al supporto, anomalia unica specifica solamente per la stessa Vivi e Rebecca, essendo loro bicromatiche, non potrà attaccare come per la gladiatrice. Ma in compenso, una volta per turno, durante la vostra main phase, spendendo due don, vi permetterà di pescare una carta dalla cima del deck, fornendo di seguito un pericolosissimo rush ad un vostro personaggio presente in campo. La decklist in questione orbiterà per la maggiore attorno a questa dinamica, e vedrà il quartetto di Otama, Izo, Touch a costo 1, Sentomaru, Yozu, Pacifista e King, il trist di Teach e Doflamingo costo 7, la coppia di Sasaki, Kingdew, Touch a costo 6 e Little Horse, e la singola copia di Marco per la parte character. Mentre per gli event ci sarà il quartetto di Happiness Punch ed il trist di Red Rock, che chiuderanno questa profile. Le carte cardine di questo mazzo saranno, di sicuro, i King, che con l'effetto combinato del leader, quando avrete minimo 9 donne a disposizione, vi permetteranno di pescare due carte fornendo rush ad un 8000, gli Horse, che con potenza pari a 9000 faranno tremare il campo da gioco, i Sentomaru, che aggiungeranno forze fresche pronte a colpire immediatamente, ed entrambi gli event, che assicureranno una longevità maggiore ai vostri alleati sul terreno. Doffy vi verrà in soccorso per rimbalzare eventuali blocker o fastidiosi elementi dal campo, vedasi i Luffy a costo 7 neri, e la combinazione tra Touch a costo 1 e Barba Nera rafforzerà ancora di più il grado offensivo della manovra di attacco che attuerete. Altro concetto da tenere bene a mente sarà quello di fornire Rush a quanti più character con grossi termini di forza possibile, il prima possibile, per infastidire l'avversario che non potrà quindi riorganizzare le difese mettendovi i bastoni in mezzo alle ruote. Un punto fermo che durante le fasi inoltrate del match dovrà dominarvi sarà attaccare subito per avere vantaggio a carte e mettere pressione alle difese avversarie. Mentre per i Chaka, grandi assenti di questa profile, dopo la Banned li ho esclusi, non essendo più possibile giocarli spesso in combinazione con Marco di OP03, ne parleremo fra poco, inserendo due Touch, un Barba Nera ed un Kingdew al loro posto. Ma potrete comunque optare per un'ulteriore sostituzione ripristinando la lista iniziale per come l'avevo pensata. Infine proteggete il leader attraverso gli event, la singola presenza di Marco Blocker e i counter più 2000, garantendovi una longevità maggiore soprattutto contro deck molto aggressivi. Marco che potrà essere sostituito con la sua controparte a costo 5 se desidererete montare un assetto più aggressivo, inserendo nuovamente, come già abbiamo accennato, i Chaka, aumentando così l'aggressività dell'intero mazzo. Quindi dopo aver visto l'intera lista e alcune dinamiche che lo muovono, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci come sempre la solita prima domanda. Come funziona questo deck? Un solo termine, attacco. Questo deck sì, avrà una buona dose, come ovvio che sia, di counter più 2000, ma a parte il Marco, questa profile sarà votata a fare del male. Più attacchi porterete a casa meglio sarà, anche perché con il leader non potrete farlo, e quindi sfruttate appieno il potere dello stesso per avere sempre risorse pronte in mano da impiegare nel migliore dei modi. Per elementi fastidiosi che si presenteranno sotto il controllo avversario, saranno presenti il burattinaio più famoso della saga e di Trail Rock, che per il primo caso rimbalzeranno un costo setto inferiore nella mano rivale e nel secondo sposteranno qualsiasi carattere lo stile sotto il mazzo del proprietario. Inoltre, ragionate con l'idea del più due. In che senso? Se avrete un costo sette, scendetelo quando avrete nove don liberi, con un costo cinque, sette don, costo quattro, sei don e così via, in modo tale da massimizzare al meglio l'abilità di Vivi, mettendo così non poca pressione alle difese avversarie. Per la fase offensiva ci saranno i doffi a costo sette, Kingdew, Touch sia a costo uno che sei, sento Maru dopo aver terminato le cariche dei pacifista, i pacifista stessi, Teach, King e Dors. Ragionate in questi termini, se non avrà un counter più 2000 tornerà utile per attaccare. Per quella difensiva invece possiederete la singola copia di Marco che, ripeto ancora una volta, risulterà intercambiabile e di Red Rock che vi forniranno una mano non indifferente, soprattutto quando vi ritroverete a dover gestire dei colossi che difficilmente verranno smaltiti. Trattando invece l'argomento mano iniziale, le carte must have da avere saranno di certo le Izo, per cercare diversi character contratto White Bar Pirate, Sentomaru, un Marco o un qualsiasi counter più 2000, un Happiness ed un Rock. Se sarà così potrete procedere tranquilli, in caso contrario mulligan ed incrociate le dita. Parlando di matchup calcolate che questo non sarà un deck di fascia tier alta, ma allo stesso tempo darete molto fastidio a chiunque vi si parerà contro. Alla luce di ciò però sappiate che sia Queen che Katakuri per voi risulteranno essere il match più ostico, soprattutto alla lunga. Per la win condition questo deck non eseguirà una specifica, dato che la vostra unica preoccupazione sarà far scendere colossi in campo fornendogli rush se potrete, ma allo stesso tempo avere quante più carte in mano per rispondere ad eventuali contrattacchi risulterà essere la mossa migliore, quindi regolatevi di conseguenza. Invece le carte obbligatorie che non potrete assolutamente sostituire con nessun altro elemento saranno ovviamente i King, le Rock assieme agli Happiness, Izzo assieme a tutto il reparto pirati di Barba Bianca e i Doffi costo 7. Infine per la fase counter avrete a disposizione i più 2000 che vedranno Sasaki, Makino e Yozu offrirvi supporto in fase difensiva assieme alle stesse Happiness Punch che all'occorrenza andranno a diminuire il valore di forza di Ben due fonti offensive rivali che in determinati casi potranno creare dei bei grattacapi all'avversario. Prima di concludere volevo fornirvi qualche informazione di base in più sull'utilizzo del deck. Vivi parte per prima, proprio per il suo gran numero di drop dispari, vedasi Sentomaro, King di Udoffi, Orse e King. Nel frattempo che questi assi nella manica scenderanno in campo potrete utilizzare i costi pari per settare board, attaccando all'occorrenza se vi sarà possibile, erodendo le risorse difensive rivali. Vivi non soffrirà praticamente mai di giocate morte, dato che, alla peggio, se non avrete nulla da utilizzare nei primi due turni di gioco, e potrà capitare, attraverso il suo effetto vi sarà consentito pescare due carte per turno, una durante la draw phase e la seconda esaurendo due donne attivando l'abilità del leader, semplicemente poi non selezionando alcun elemento per l'innesco della parola chiave rush. Concludendo, Vivi sarà quel leader che non ci si aspetta, possa impensierire più di molto, e la lista che vi ho mostrato ha portato a casa un secondo posto in un local svoltosi a grande inverno, chiudendo il torneo con un parziale di 4-1. Questo deck, inoltre, risulterà al momento essere il più economico di OP04, dato che i doffi all'evenienza potranno essere recuperati anche non foil, e i marco in entrambe le versioni, dopo le rispettive limitazioni, sono calati di prezzo. E quindi la regina di Alabasta risulterà essere la scelta numero uno per chi vorrà iniziare a muovere i primi passi nel DCG di One Piece, avendo tra le mani un mazzo che, di certo, farà divertire chi lo utilizzerà. E voi avete già provato le dinamiche che muovono questo deck? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei DCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.